Dato sull'inflazione e inatteso nel Regno Unito, l'aumento dei prezzi al consumo a ottobre è rallentato, segnandolo 0,9 in più rispetto a un anno fa, secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica. Gli economisti si attendevano a un tasso dell'1,1%, mentre a settembre l'inflazione era stata dell'1%, il livello più alto da novembre del 2014. Per questo la Banca d'Inghilterra, a inizio mese, ha allontanato la prospettiva di un nuovo allentamento monetario, spiegando inoltre di prevedere un'inflazione annua superiore al proprio obiettivo del 2%. Al contrario, i prezzi alla produzione dell'industria manifatturiera hanno subito un netto aumento del 2,1% su base annua contro l'1,3 di settembre, dovuto particolarmente al forte incremento dei prezzi delle materie prime e dei carburanti utilizzati nelle fabbriche. L'annuncio dei dati sull'inflazione ha indebolito la sterlina contro il dollaro e contro l'euro.